Sai come gestire le erbe spontanee? Sai come si gestisce al meglio le erbe... Le erbe spontanee a me? Le erbe infestanti? Sai come si gestiscono al meglio le erbe infestanti? Madonna, non mi viene da dirlo infestante, come mai? Sai come si gestisce al meglio le erbe infestanti? Ciao, sono Roberto. Aiuto le persone a realizzare e gestire giardini in modo semplice, salutare e sostenibile. E se ti interessano questi argomenti vai sul sito www.giardinofuturo.it Scoprirai un mondo che ti farà molto comodo. Adesso ti parlo un po' di come gestire le erbe infestanti. Anzi, chiamiamole erbe spontanee perché di infestante non hanno proprio niente. A parte il fatto che le consideriamo noi perché tutto ciò che non nasce rispetto a ciò che per noi è coltivato, piantato, sembra un'aggressione, un qualcosa che va all'edere le nostre piante. Ora, questi allori sono stati piantati nel solito momento e il fatto che queste due siano più piccole non dipende tanto dalla concorrenza dell'erba spontanea ma semplicemente perché erano piante che hanno sofferto una gelata tardiva, non si sono ambientate bene e quindi sono state tagliate quasi a zero e stanno ributtando. Sicuramente con il tempo riprenderanno le altre. Allora, qui io sono già andato un po' a pulire. Come vedi, questo qui per molti sarebbe il lavoro finito, riportare a terra nuda e di sicuro non possiamo lasciare questa vegetazione che va a coprire, a fare concorrenza alle nostre coltivazioni. La cosa che mi preme passarti è che quello non è il lavoro finito, comunque non è il lavoro ottimale. Cioè il fatto di lasciare il terreno nudo così è da evitare perché la natura non vuole il terreno nudo. Laddove arriva luce e acqua nel terreno ci sono un sacco di semi che sono presenti anche da decine di anni che non aspettano altro di venire in superficie e germinare. La zappettatura infatti non fa altro che smuovere questi semi e quindi alla fine è un cane che si morde la coda. Il miglior modo per evitare questo è di togliere queste erbe che possono fare concorrenza alle nostre piante e quindi anche smuovere un po' il terreno, renderlo meno compatto in modo che l'acqua possa penetrare, ma è fondamentale poi andare a ricoprirlo nuovamente il terreno con una pacciamatura. Se vuoi tenere un terreno pulito così vai contro natura e ti conviene comunque zappettare spesso, cioè non far neanche crescere le prime erbette. Invece quando arrivi a questa condizione chiaramente c'è un po' più di lavoro, devi andare a scassare in profondità e se lasci anche delle parti di radici queste poi ripartiranno. Il fondamentale è il fatto che vai a coprire, l'importante è la copertura del suolo. Quando poi le piante saranno cresciute, come qua, vedi non arriva luce e qua dentro non nasce alcunché, addirittura ci sono le foglie della pianta stessa. In pratica i concetti fondamentali per lavorare in linea con la natura e con i suoi processi sono pochi. La cosa fondamentale è quella di non rivoltare mai il terreno sottosopra, di mantenerlo sempre coperto e poi di andare a nutrire il terreno e non le piante, come viene fatto con i comuni concimi chimici, dove te vai a dizionare delle cose pensando che servano alle piante. In effetti avviene proprio quello, che le piante se lo assimilano però in maniera molto pompata. È un po' come chi vuole ingrossarsi, vuole fare il fisico, invece di fare una buona dieta e un buon esercizio fisico, prende anabolizzanti, steroidi, è chiaro che poi ingrossano in maniera sproporzionata e anche naturale, però bruciando il tempo e a discapito anche della propria salute e del proprio benessere. Quindi per le piante è lo stesso, quando usi la chimica bari sui tempi, però quella crescita esponenziale e vigorosa alla fine non fa altro che indebolire le piante e renderle più appetibili per i parassiti che le attaccano. Ecco, la cosa fondamentale è quella di riuscire a fare un giardinaggio oppure un orto con quelle materie che la natura ci mette a disposizione. Ecco cosa significa lavorare con la natura, grazie alla natura, in maniera sostenibile. Il fatto che diventi alla fine sostenibile per te. La prima sostenibilità deve essere per noi stessi, nel senso che io devo fare delle cose che alla lunga mi giovino, mi facciano risparmiare tempo, denaro e fatica e abbia comunque un risultato gradevole, senza strafare, senza esagerare, senza forzare la mano o il tempo. È questo che è importante da capire. Quando invece ti concentri sul da farsi e lo fai nei modi e nei tempi giusti, alla fine il risultato arriva come sarebbe arrivato in maniera naturale, però avendoci messo lo zampino siamo in grado di pilotare verso il nostro obiettivo, verso il nostro desiderio. Non possiamo forzare in maniera estremizzata, bisogna aspettare i suoi tempi e farlo nei suoi modi. Solo così potremo ottimizzare tutti i processi e avere dei risultati in maniera ottimale. Se ti interessano questi argomenti e vuoi approfondire, ti ripeto, vai sul sito www.giardinofuturo.it e scarica subito la guida gratuita con i 10 fondamenti del giardinaggio sostenibile. In pratica è l'ABC del mio metodo. Ti basta soltanto iscriverti alla newsletter e scaricare il pdf. Lo potrai leggere e applicare fin da subito. Ti renderai conto che molti sistemi del giardinaggio che vedi in giro sono dettati da un'economia in scala consumistica e potrai sicuramente giovarne, se specialmente vorrai farlo in prima persona, e avere dei risultati in modo semplice, salutare e sostenibile. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!